Storico accordo sulla gestione dei diritti d'autore tra SIAE e SoundRiff. Cosa succede? Cosa cambia? Prima di proseguire con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità. Dopo aver parlato di copyright europeo, ecco che torniamo a parlare di diritti d'autore. Con una notizia storica, se vogliamo, e questa volta positiva, possiamo dire, per quanto meno per noi autori e utilizzatori. Ovvero una sorta di pace tra SIAE e SoundRiff. SIAE è la società italiana Autore ed Editori. Una società che ha una storia di oltre 100 anni, che si occupa della gestione dei diritti d'autore negli ambiti più diversi, la musica, i libri, contenuti televisivi e quant'altro. Ogni Stato, ogni nazione, aveva la propria società di collecting, si chiama così, che era sostanzialmente monopolista. Alcuni anni fa una direttiva europea, la direttiva Barnier, ha imposto la liberalizzazione del mercato, ovvero in modo da poter consentire accesso a nuove realtà società che potessero operare nel campo della gestione dei diritti d'autore anche in un'ottica più transnazionale, in questo modo andando a scardinare i monopoli delle singole società, associazioni o quant'altro. E così SoundRiff, che è una società italiana però con sede a Londra, fondata da David e d'altri, si è immessa in questo mercato molto intricato e complicato per tutta una serie di motivi. Dopo alcuni anni di battaglie legali sulla possibilità di poter operare o meno, ecco che finalmente si è giunti ad un accordo. Siae aveva cercato sempre di tenere SoundRiff alla larga o comunque cercare di limitarne il più possibile il campo d'azione. Adesso, in qualche modo, ne viene riconosciuta la possibilità. Ritengo necessario fare un video specifico sulla storia e l'evoluzione di SoundRiff. Vi faccerebbe parlare della notizia di questi giorni, intanto. Purtroppo la questione è sia molto burocratica, ma anche politica, quindi cercherò di essere un po' rapido sulle questioni un po' brutte, per parlare di quello invece ci può interessare di più. In Italia, per qualche motivo che non ben sappiamo, ancora non si è recepita questa direttiva europea. Però le due società principali di collecting hanno deciso di prendersi un accordo tra di loro, in modo da riconoscere la possibilità di operare per dei soggetti concorrenti e di poter dare in qualche modo libera scelta agli utenti su quale società affidare i propri contenuti, le proprie opere. Innanzitutto SoundRiff non è così adatta ai DJ perché significherebbe utilizzare nelle proprie serate soltanto brani repertori SoundRiff, che possono essere più o meno tanti, ma è comunque un limite rispetto all'intero repertorio musicale, è un limite rispetto a ciò che è avvenuto storicamente, eccetera. Però un autore può scegliere di affidarsi a SoundRiff o qualunque altra delle società, ce ne sono anche altre, per la gestione dei propri diritti, soprattutto in ottica di prestazioni live. Esegui una serata soltanto con i brani suoi e affidi a SoundRiff la gestione. Cosa è successo tecnicamente? Dei 27 stati membri, solo due non avevano recepito la direttiva Barnier. La Repubblica Cera e l'Italia. Il governo precedente, complice a un forte conflitto di interessi, e lasciamo decadere lì la cosa, ha applicato in qualche modo una direttiva alla nostra maniera, ovvero consentendo la possibilità di operare in Italia soltanto, guarda caso, alle società senza fini di lucro. Siae, pur essendo un colosso, è comunque una società a bilancio zero. In sostanza, tutto ciò che entra viene ripartito tra i soci. Su come venga ripartito è un altro discorso. SoundRiff, che invece nasce come una start-up, quindi con fini di lucro, si è trovata a non poter operare ed ha girato l'ostacolo attraverso la Costituzione di LEA, che è un'associazione senza fini di lucro, italiana questa volta, che si occupa della gestione dei diritti d'autore e contiene al proprio interno anche SoundRiff. Questo inghippo in qualche modo si è superato da questo accordo, ovvero in sostanza sulle questioni un po' più controverse, sui casi in cui un autore è iscritto a Siae ma collabora nella scrittura con un autore di SoundRiff, oppure su tutta una serie di cause in corso che non farebbero che ingessare il lavoro per anni, a giudici, operatori e quant'altro, si sono presi questo accordo andando quindi a stralciare un po' i vecchi contenziosi e nell'ottica di andare a collaborare insieme nel futuro. Ovviamente in un regime di libera concorrenza nel quale ognuno ha interesse a prendere utenti dall'altro e così via. Sugli effetti che SoundRiff ha avuto a sussiare si apre un altro capitolo molto interessante. Quello che mi preme sottolineare è che finalmente Siae si dà una smossa, inizia ad accorgersi del mondo che cambia. Già se vogliamo la gestione di Filippo Sugar ha portato delle innovazioni interessanti sotto questo aspetto, pur mantenendo una forte chiusura nei confronti degli entranti. Adesso invece il cambio di strategia con la presidenza di Mogol, se si muove in un'ottima più conservatrice, e ne abbiamo parlato nel video precedente sul copyright europeo, però apre la strada alla collaborazione o quantomeno ad una guerra consapevole e nei limiti del consentito con gli altri concorrenti. E questo non va che a creare vantaggi per gli autori, gli utilizzatori, eccetera. In un regime di libero mercato ci guadagniamo tutti. E possiamo scegliere l'offerta più vantaggiosa, diciamo così. Possiamo scegliere colui che dà il servizio migliore. In questo video in realtà si parla di qualcosa ma si aprono tutte le questioni. E allora mi interessa sapere cosa ne pensi nei commenti, anche per andare ad approfondire in maniera più specifica certi argomenti piuttosto che altri. Continua a seguirmi su Essere di Change. E alla prossima.